ciao a tutti sono sissi benvenuti e bentornati sul canale oggi come avrete visto dal titolo parliamo di profumi e profumi low cost e allora quest'estate io sono un pochino difficile da contentare ok e quindi mi sono resa conto che i profumi che ho a casa mi hanno un po' rotto ok mi hanno stufato e quindi mi sono detta ogni tanto mi parte a me la fissa per i profumi e adesso in questo periodo e sono in fissa proprio voglio profumi nuovi cerco la chicca ok e quindi mi sono detta siccome di il budget è basso cioè qua come si dice qua imbrianza di soldi geneminga ok mi sono chiesta e ho detto va proviamo a guardare su aliexpress se ci sono dei profumi tra l'altro io non avevo mai esplorato questo mondo ho provato anche a guardare qua su youtube italia se c'era qualcuno che si era già avventurato e per cercare qualche consiglio ma non ho trovato nulla quindi questo è un contenuto esclusivo cioè l'avete visto prima da sissi queste cose ok adesso basta farmi la sviolinata per i contenuti esclusivi e ho ordinato dei profumi su aliexpress mi sono adatta alla pazzo gioia è tutta roba che costa 2 3 4 euro quindi è alla portata di tutti e cioè sono andata così un pochino alla cieca perché ho detto cioè senza avere recensioni senza sentire il profumo perché a me i profumi piace prenderli sempre un po in presenza anche nei negozi no o anche per dire c'è il profumo nuovo di pinko pallino che mi potrebbe piacere non è che lo ordino su internet vado in profumeria lo provo anche perché bisognerebbe perché se ci vogliamo impegnare in acquisti importanti bisogna prima sentirlo sulla pelle il profumo ma dato che il budget era quello era basso appunto ho detto sono andata un pochino a scatola chiuso ho detto facciamo questo esperimento e ho preso un po di profumi cioè sono qua piena di scatoline praticamente sono sei profumi anche se sono di più perché uno è un set e tra tutti questi sei profumi ne abbiamo uno e mezzo bocciato uno rimandato e tutti gli altri mi hanno veramente stupito tra l'altro questi profumi non potevano arrivare in un momento peggiore perché sono arrivati esattamente nel mio primo giorno di ciclo e avevo un mal di testa pazzesco e io quando ho mal di testa non posso sentire né profumi né puzze perché ovviamente c'ho il la nausea facile e quindi nonostante tutto ciò poi nel corso dei giorni nel corso degli giorni scorsi li ho provati praticamente tutti mi hanno veramente stupito a parte quel profumo che è bocciato però cioè si sapeva su sei la legge dei grandi numeri si sa che qualcosa può andare storto a parte quello bocciato poi tutto il resto mi ha veramente devo dirvi la verità mi ha stupito prima di cominciare farveli vedere facciamo un pochino di propaganda canale perciò io ve lo ricordo sempre perché nei vlog non lo dico mai però adesso che siamo qui tranquilli seduti a chiacchierare tra di noi ve lo dico se siete qui e non siete ancora iscritti al canale vi chiedo di fare l'iscrizione così da aiutarmi a crescere con il canale a lasciarmi un like di supporto e a farvi sentire qua sotto nei commenti perché la discussione va sempre avanti sotto nei commenti io rispondo sempre a tutti quanti fatemi sapere se avete già provato il mondo dei profumi di aliexpress oppure se appunto vi piacerebbe provare se vi ho incuriosito insomma io qua sotto nell'info box mi impegnerò a mettere tutti i link anche se non è ovviamente un video affiliato nel senso ho preso tutto di tasca mia non mi ha sponsorizzato nessuno però vi metto appunto giustamente tutti i link delle cose che ho preso sono tante mi impegnerò a fare i compiti a fare anche questa cosa partiamo dal primo io devo dire che un po tutti questi profumi a parte vabbè l'eccezione sono profumi che sono veramente molto molto carini anche da per fare un regalo sono tutti profumi solidi a parte uno che è un profumo in olio io non ho trovato profumi che si spruzzano in realtà a parte quelli dupe di profumi insomma importanti di lusso ok però profumi diciamo cinesi asiatici ho trovato solo appunto questa tutti erano tutti profumi solidi o profumi in olio non lo so non facciamoci troppe domande ok il primo che vi faccio vedere che questo è veramente molto molto carino anche da da regalare è appunto questo che si chiama sakura ok sakura credo che sia il fiore del ciliegio ok anche questo tra tutti quelli che c'erano ho deciso di prendere questo perché mi ispirava questo questo è di sr makeup ok e ve lo faccio vedere io ho conservato la scatolina anche se queste scatoline si sono un pochino schiacciate durante la spedizione però ne ho conservato la scatola che sto rompendo ovviamente chiaro va bene cerchiamo di aprirla dall'altra parte perfetto e questo ve lo faccio vedere è veramente veramente molto 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 carino da regalare guardate che bella scatolina che ha cioè molto molto carina con appunto qua scritto il nome sakura e il la foto cioè il disegno del fiore di ciliegio qua dice sr makeup solid fragrant paste ok questo è uno dei profumi solidi che si non sono i miei preferiti è questi qua che bisogna metterci il dito dentro cioè in generale e si svita per aprire ok questo dentro il profumo si svita per aprire e non sono i miei preferiti quelli da doverci mettere il dito dentro anche per dire le cose per le labbra i lip balm che bisogna ficcare dentro il dito un po' per ovvie ragioni ok un po' anche per ragioni di igiene non sono i miei preferiti però devo dirvi la verità che comunque rimane una rimane un profumo buonissimo e rimane anche una bellissima idea regalo perché insomma questa scatolina fa una bella scena allora questo profumo è un profumo io non so che di che cosa sappiano i fiori di ciliegio anzi ho letto anche su internet che in realtà il fiore di ciliegio non è che abbia un odore particolare un profumo particolare però questo è un fiorito molto molto delicato molto molto fresco questi profumi a parte il profumo in olio che è un po' una cosa a parte tutti questi profumi solidi che vi farò vedere oggi sono un po' profumi io li chiamo cioè sono profumi adatti a quelle persone che non vogliono l'effetto wow ok perché non è voi potete dirmi quello che volete i profumi solidi vanno messi sui punti di calore sui punti strategici quindi dietro le orecchie in mezzo al seno sui polsi volendo dietro le ginocchia dietro il collo punti dove noi sprigioniamo calore e il profumo esce essendo profumi in olio o in pasta hanno una base grassa e quindi in realtà dovrebbero durare di più che i profumi a spruzzo ok voi potete dirmi tutto quello che volete però anche un profumo a spruzzo che te lo vaporizzi sui vestiti te lo vaporizzi sui capelli anche per chi ha i capelli lunghi fa una tutto un altro effetto perché ovviamente lascia anche una scia diversa questi secondo me sono profumi io dico profumi per introversi però in realtà possono anche essere profumi per gli amanti possono anche essere profumi per le mamme perché appunto non danno appunto quella scia esagerata cioè vi mettete questo profumo non è che si gira la gente a guardare oddio è passata sissi ok però sono sono fanno il loro fanno comunque il loro dovere io dico appunto che sono per introversi appunto per la ragione che vi ho detto adesso per gli amanti perché sono profumi da un po' da contatto ok sono profumi che si sentono quando una persona ti viene vicino quindi un profumo per gli amanti o anche per le mamme ho detto perché tra l'altro poco tempo fa ho visto il video di una ragazza che è diventata mamma da poco ha un bambino neonato e dice io non mi va più di mettere i profumi di scursarmi il profumo perché ho sempre in braccio il bambino e quindi mi da mi da ho paura che gli dia fastidio ok questo magari te lo metti nel punto se sei una neomamma te lo metti un pochino dietro le orecchie ti senti profumata però anche se hai il bambino in braccio non lo vai a caricare appunto di profumo io questo problema con il mio raolino ovviamente e tornando parlando di questi profumi ovviamente qua dietro sono scritti poi tutti in cinese a parte solid fragrance paste sono scritti tutti in cinese non chiedetemi le note perché non le so le note comunque questo è un floreale orientale molto è dolce ma fresco dolce ma fresco veramente molto molto buono io come vi ho detto tutti questi profumi li ho provati e alcuni tengono abbastanza alcuni tengono qualche ora questo tiene mediamente un sei ore ok che può essere anche questo anche se ve lo tenete in borsetta che vi fate un rabbocchino è veramente molto molto carino quindi questo è promosso super promosso anche soprattutto anche per fare un regalo alle amiche questo ce lo vedo appunto su una ragazza su una ragazza dai 15 ai 40 ok però ci sono statistiche che sto facendo io ognuno può mettere quello che vuole poi arriviamo a questi due di nuovo ok nuovo e qui abbiamo un po il primo bocciato o un promossissimo un bocciato qua appunto c'erano due scelte guardate che intanto che carina che è la scatolina con questa luna così bellissima e qua abbiamo uno che mi piace alla follia è uno che è purtroppo bocciato appunto c'erano due scelte e meno male che non sono andata sulla scelta più ovvia li ho presi tutte e due perché vi dico i nomi allora uno è desert solitary smoke c'è uno tu vedi un profumo che si chiama desert solitary smoke che fai non lo prendi e l'altro si chiama berlin maiden ecco desert smoke qua è bocciato è il bocciato mentre berlin maiden è promossissimo allora il numero uno questo qui desert smoke lo dice anche nel titolo è una fragranza al fumo smoky ok sa di sa di affumicato cioè guardate però che anche questo è un profumo di quelli che bisogna ficcarci dentro il dito guardate però che innovativo che bella che è la scatolina anche questa anche queste veramente sono ottime per fare un regalo perché dalla già dalla scatolina che è veramente molto carina a questa che è fatta così ok cioè lo rendono veramente un'idea regalo fantastica allora sì sa di affumicato e poi sa anche c'è adesso dico una cosa brutta però purtroppo sa di questo sa quando aprite l'assorbente sa di assorbente pulito è pulito però sa di appunto di questi qua i lines quelli viola ok che hanno quel profumo perché sono profumati quando li aprite dalla carta sentite questo odore qua più l'affumicato ok che infatti io non riuscivo a capire se era se sentivo l'odore l'ho detto prima questo questo video sta prendendo una brutta piega insomma non riuscivo a capire se avevo nel naso quell'odore di quel coso là oppure se era questo profumo adesso che sono passati dei giorni che lo starei sentendo effettivamente sa di assorbente l'ines pulito appena tirato fuoco appena aperto più con una nota di affumicato pessimo cioè questo è veramente bocciato desert cioè così non lo comprate io non so il link ve lo metto ma vi metto tra parentesi non prendetelo desert solitary smoke a meno che non vi piacciono le fragranze affumicate cioè questo sa veramente di affumicato e io odio l'affumicato per dirvi non mangio neanche il salmone affumicato mentre l'altro che è berlin maiden lo amo cioè lo amo è proprio veramente buono è il secondo mio preferito ok il secondo mio preferito tra tutti questi la scatolina è sempre la stessa adesso lo sto prendo dalla parte sbagliata come al solito sto spaccando tutto finissimo la scatolina è sempre la stessa ok così e questo è veramente cioè di berlin non so che cosa abbia ok io l'avrei chiamato un tokyo vibes perché è un profumo veramente secondo me è futuristico è molto fresco è forte è forte ma fresco ha quel tocco di dolce ma veramente fresco cioè secondo me è veramente un profumo eclettico spariamo paroloni a caso un profumo veramente futuristico eclettico e mi dà veramente del tokyo vibes è veramente molto molto buono questo ha una persistenza anche lui di una mezza giornata ok va un pochino ritoccato ma mi ha stupito veramente tanto cioè se quell'altro è super bocciato questo è veramente super promosso mi piace veramente tantissimo ed è il numero 2 berlin maiden ok veramente troppo buono anche qui non so dirvi effettivamente le note perché sono profumi che in generale sono profumi orientali sono profumi che noi non siamo abituati a sentire a meno io a me mi si è aperto un po' un mondo è un profumo che non sono profumi che non siamo abituati a sentire non riesco a distinguere nelle note se non per dirvi è più fiorito e più fruttato ok più dolce più fresco ok veramente molto molto buono anche questo ce lo vedo su una ragazza ok non è da donna matura ognuno può fare quello che vuole però ce lo vedo bene perché è bello fresco è fiorito fresco ma anche un pochino dolce a una punta di dolce ce lo vedo appunto bene su una ragazza come me sui 30 anni ok molto molto veramente molto molto buono cioè lo adoro questo e poi la scatolina veramente è veramente molto carina questo è veramente innovativo cioè veramente futuristico innovativo e è un profumo per gli artisti o per chi si sente un po boh artistica non lo so cioè diverso diverso e non ho mai sentito un profumo del genere sinceramente veramente molto molto buono poi andiamo avanti e passiamo al rimandato il rimandato questo profumo qui di e que ed è un profumo in olio ok è un profumo in olio questo questo è veramente come persistenza ok suona il telefono adesso io odio quando mi disturbano soprattutto dall'enel dal disco dell'enel benissimo quindi dicevo questo profumo e que che io ho preso in amber romance cioè anche qui che amber romance vuoi non comprarlo ok qui di questa linea ce ne sono veramente mille disponibili ok e ci sono anche tanti dupe di profumi famosi di lusso però io ho detto no cioè voglio un profumo che non sia un dupe e infatti questo si chiama amber romance in realtà non ho trovato corrispondenze forse forse potrebbe essere un dupe di un bombshell di victoria secrets bomber bombshell tipo una roba del genere però non ne sono sicura perché non l'ho mai sentito quindi non saprei questo è veramente tra tra tutti quelli che ho preso tra tutti questi che vi sto facendo vedere il profumo è l'unico profumo ad olio ed è l'unico profumo molto molto persistente cioè rispetto a tutti gli altri ha un grado di persistenza molto più elevata io dico che è rimandato perché è rimandato perché è veramente molto forte è rimandato perché è molto cioè qui si sente l'ambra se vi piace l'ambra ma si sente anche il dolce si sente anche l'animale quindi è un'ambra dolce animalica un profumo molto lussurioso è molto c'è questo questo fate effetto wow ok questo si girano tutti quanti però è un profumo che in questo momento non mi va e quindi lo rimando perché lo voglio sentire lo voglio provare nei mesi freddi ok adesso estate e quindi ho voglia di qualcosa che non so neanche io che cos'è tipo di fresco di fiorito di stuzzicante non di animalico e dolce e e tipo così tanto imponente ok e quindi amber romance roll on olio roll on lo appunto lo rimando non lo boccio perché alla fine è un buon profumo anche come come persistenza come fattura è un buon profumo non lo boccio per il momento ma lo rimando perché lo voglio appunto sentire in un altro periodo dell'anno nella stagione fredda poi andiamo avanti e parliamo del mio preferito il mio preferito in assoluto tra tutti questi che ho preso anche qui ho tenuto la scatolina anche se si è veramente molto schiacciata con la spedizione peccato perché anche questo veramente è sono tutti veramente tranne questo qui in olio che un po' anonimo ok cioè sinceramente un po' anonimo però tutti gli altri sono veramente delle ottime idee regalo questo è il mio preferito in tutto perché sia per la fragranza sia per per com'è perché adesso ve lo faccio vedere non bisogna ficcare il dito dentro ok è uno stick è uno stick ed è l'esper coco questa marca qui l'esper coco charming fragrance solid balm guardate com'è carino anche lo stick molto moderno ok come dico so verde poi è verde cioè si si piace il verde ed è ho preso jasmine tea ok tè jasmine tè al gelsomino ora ora amo lo amo cioè questo è veramente è forse quello che stavo cercando questo vedete è fatto così sembra un è uno stick sembra un burro cacao più grosso però in realtà è un è un profumo solido questo lo adoro perché mi piace tantissimo il la fragranza ok mi sto dando al tè ok ultimamente quest'estate perché anche quello che ho preso dei tesori d'oriente matcha matcha green tea credo che era non so ve l'ho fatto vedere in uno scorso vlog se siete state attente mi piace tantissimo quindi quest'estate mi sto dando al tè ok mi sto dando al tè questo un bel tè al gelsomino che io prendo d'inverno quando vado a mangiare il sushi io lo prendo il tè al gelsomino a cena ed è buonissimo ma perché è fresco è fresco è un tè che il tè si sente poco però c'è quella c'è quella retronota di tè ok ha una retronota di tè e ha questo gelsomino che non è un gelsomino ricco dolce è un gelsomino fresco ed è fantastico è fantastico veramente fresco fiorito con quel kick di energia del tè ok che è un po sbarazzino lo adoro cioè lo adoro è perfetto poi questo veramente cioè così ve lo mettete dietro io lo metto basta così un pochino dietro le orecchie così vi faccio vedere anche come ve lo metto un po qui mezzo al seno ok sotto il collo facciamo una striscia sotto il collo sui polsi buono 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 veramente buonissimo cioè anche questo questo è il mio preferito in assoluto tra tutti questi che vi faccio vedere poi andando avanti un'altra ottima idea regalo è questo set di quattro profumini cioè sono veramente molto carini anche questa la scatola si è un pochino vedete con le spedicola spedizione purtroppo si è un po schiacciata e dietro tra l'altro qua ci sono tutti i profumini rappresentati anche qui vedete che qua sopra c'è scritto in cinese e sopra nei profumini non c'è scritto di che cosa sanno in realtà quindi io non so i nomi ok li distingo per colore perché perché non ne so proprio i nomi qua poi ci hanno pure messo ci hanno attaccato pure una un adesivo appunto un'etichetta però vabbè il fronte della scatola la marca è UHC ok anche qui dicono encounter time perfume pencil anche questi mi piacciono molto perché come il l'espercocco jasmine tea sono appunto profumini in così in stick ma sembrano dei rossetti in realtà sono profumini guardate che bel colore che bei colori pastellini sono troppo carini ok e anche qui hanno una scritta in che non si legge forse su questo qua violetto si vede un po perché è in bianco su colore pastello è UHC e su tutti c'è scritto EU tender chance chance encounter time e non c'è il nome ok c'è scritto su tutti la stessa cosa e non c'è il nome di questi di tutti questi anche questi sono veramente un'ottima ottima idea regalo soprattutto anche per una ragazzina perché sono veramente tutti profumi molto delicati come dicevo prima questi profumi a parte questo qui in olio ok sono profumi molto discreti molto puliti molto freschi e vanno bene anche per le ragazzine insomma anche per andare a scuola per dire voi vi sentite profumate però non oberate la classe con il vostro profumo ok quindi anche qui dai sedi dai 15 dai 13 anni in poi ok è un'ottima idea regalo questa tra tutti questi appunto il mio meno preferito è questo qui viola che sa di io pensavo fosse violetta ma sa di eliotropico secondo me è l'eliotropio questo mischiato con un po' di violetta boh no questo non mi piace questo viola è scartato quello che amo tra tutti questi vedete io mi sono messa pure in pandan è questo qui giallo che è quello un po' più forte un po' più persistente di tutti pur essendo molto fresco è forte ma è molto fresco ok non è una fragranza che vi nausea ok questi sanno un po' di mi vengono in mente i bagnoschiuma sentire questi profumini perché sono veramente molto freschi e molto puliti e veramente secondo me adatti molto adatti anche alle ragazze più giovani ok e mi piace molto quello giallo quello giallo il mio preferito poi c'è quello rosa che in realtà sa è un fiorito questo è un fiorito ma non sa esclusivamente di rosa ok sa di fiori anche questo è molto fresco ed è un pochino meno forte di quello giallo ma è sempre forte e poi c'è questo qui verde ovviamente che questo sa un po' di burro di cacao ok ha un profumo questi sono molto freschi mentre questi due qua sono più dolci sono più cupi e dolci questi hanno una nota fresca sbarazzina mentre questi sono sanno più se questi sanno di bagnoschiuma questi sanno un po' più di creme ok per fare così dei paragoni senza dir niente senza far capire nulla perché di note e di nomi non ce ne sono a parte questo jasmine tea che è inconfondibile ok quindi il mio preferito in assoluto è questo qui il jasmine poi abbiamo questo ok questo qui il berlin maiden che veramente molto c'è un profumo veramente molto diverso cioè che io è un profumo che io non ho mai sentito ok veramente mi ha questo mi ha colpito sebbene ci debba mettere dentro il dito ok e non è la mia cosa preferita da fare questo mi ha veramente molto è una fragranza che mi ha veramente molto colpito questo veramente se qualcuno ti annusa da vicino che magari ti viene a salutare ti dice che profumo hai aliexpress però è veramente buono è veramente buono quindi questo amore della vita questo rivelazione poi abbiamo questo qui giallo in tinta ok che veramente molto fresco ok e poi abbiamo il sakura e poi tutti gli altri e poi tutti gli altri insomma tranne questo qui bocciatissimo il lo smoke l'ines smoke bocciato però veramente sono mi hanno veramente molto stupita cioè adesso ne avrò da fare a consumare questi profumi però intendo ampliare questa mia conoscenza dei profumi su aliexpress perché sono veramente molto contenta delle scelte che ho fatto cioè su tutti questi uno è praticamente bocciato l'altro vabbè rimandato però non è niente male poteva andare molto peggio potevano fare tutti schifo invece ne fa schifo solo uno e veramente sono veramente molto molto contenta e sono contenta di potervi dare questo questo feedback perché magari qualcuno interessato e dice ma io non ho recensioni appunto e sono qui io per darvi la mia testimonianza ok che mi sono veramente sono scioccata e mi sono veramente trovata benissimo mi sto trovando bene con questi profumi e niente quindi sono profumi un po' diciamo anche da casa volendo ok se non vi volete impegnare a spruzzarvi una fraganza che volete una cosa un po' più discreta appunto ve lo mettete questo sul polso sui punti strategici anche per stare a casa studiare ascoltare un po' di musica anche cioè vanno bene anche per aromaterapia io questi giorni che me li sono messa mi sono trovata varie volte al giorno a fare così ok a sentirmeli perché il profumo è qui non scappa essendo un burro ok uno stick il profumo non evapora cioè si dissolve dopo totore però rimane qui ok e quindi anche se vi mettete a pensare ok così pensierose a pensare a tutti i problemi del mondo intanto vi fate un po' di aromaterapia ok mi è capitato anche questo in questi giorni di pensare ai miei problemi e fare così ok quindi sono profumazioni veramente molto discrete molto però al contempo veramente molto buone sono veramente stupita sono stupita e boh ve le consiglio e poi per pochissimi euro ok quindi non c'è bisogno di spendere esageratamente per avere delle cose particolari e anche adatte un po' per tutte le occasioni ok poi se volete un effetto wow ecco prendete un profumo così al tè per dire prendete dei profumi complementari ok io i profumi solidi anche per dire uno che ho che è zagara ok io lo uso anche con un profumo ai fiori appunto ai fiori d'arancio cosa faccio mi metto il profumo solido in punti strategici ok quindi nei punti di calore e poi il profumo normale se trovate un profumo appunto complementare questo qui per esempio il jasmine tea con un altro profumo al tè al tè verde ok che stanno bene insieme vi mettete questo sui punti strategici ok sui punti di calore e poi vi vaporizzate un altro profumo al tè ok che può essere quello di ashley tè verde ok ve lo vaporizzate quindi avete l'effetto wow e poi avete l'effetto anche se qualcuno vi viene vicino che vi abbraccia eccetera avete anche sotto questo profumo che monta dalla pelle ok cioè qui e così facciamo una cosa super completa va bene la smetto di blatterare fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi ho almeno incuriosito e lasciatemi un like di supporto e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto perché qui ci si diverte e soprattutto mi aiutate a crescere con il canale io vi bacio e noi ci vediamo prestissimo con altri contenuti ciao ciao